allora buongiorno a tutti io sono marina buzzoni sono una docente di ca foscari ma sono qui anche in veste di presidente di a ucd dell'associazione italiana di informatico umanistica e cultura digitale e sono qui anche per presiedere questa sessione intitolata istruzione cultura università sono particolarmente onorata di presiedere questa sessione il vantaggio visti i nomi presti molto prestigiosi dei relatori è che i relatori stessi non hanno bisogno di particolari presentazioni quindi mi renderanno il compito molto più facile come vedete io ho subito accettato l'invito a usare il telefonino e quindi userò il mio telefonino ringrazio anche per l'università di bologna gli organizzatori ovviamente francesca tomasi in primis ma tutto il team che lei coordina e ringrazio moltissimo ringrazio moltissimo anche chi ci ospita in questa sala meravigliosa e invito quindi il dottor stefano versari che è il primo relatore di questa sessione e il dottor versari è un ingegnere di formazione e ha ricoperto molti ruoli apicali nell'ambito del sistema di istruzione già capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione del ministero dell'istruzione è stato tra i direttori generali del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e attualmente come avrete visto anche dal programma ricopre l'incarico di direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'emilia romagna ministero dell'istruzione del merito quindi la sua esperienza sul campo ci aiuterà a mette senz'altro a mettere meglio a fuoco e i punti essenziali del di cui vorremmo discutere oggi nel rapporto tra delle dh tra scuola e sbocchi lavorativi o applicazioni lavorative terza missione visto precedentemente è possibile mettere le slide prima perché vedo molto poco sul desktop sono presenti le slide quindi potremmo chiudere qua però non so dove sia il all'interno della chiavetta quindi le trovo ecco questo è all'interno della chiavetta allora facciamo così io sono già a posto a posto ecco se dovrei riuscire a fare anche ecco puoi chiudere qua sì esattamente qui dove c'è la X dato buongiorno la ola è splendida la visione è pessima per me perché non vi vedo quindi vedo queste luci immagino che siate in prevalenza no immagino niente perché vedo anche persone non da età universitaria quindi ci sono probabilmente anche docenti ci sono docenti di scuola? sì qualcuno perfetto va bene quindi c'è un buon mix questa è una trasmissione non ho l'abitudine di gettare la croce su nessuno quindi non sto indicando con scandalo anche perché questo è proprio è un percepito tra l'altro è una persona di grandissima levatura intellettuale che è Marcello Fo che è stato anche presidente della RAI che afferma quello che le leggete l'idea di una società digitale che diventa sempre più diffusa e che sarebbe impeditiva di uno sviluppo cognitivo adeguato da parte dei propri giovani e poi vabbè Sandra Gisleri è una grande sondaggista uno non può essere tuttologo e con questa battuta ha dimostrato di non avere pienamente consapevolezza della questione bisogna tornare alla carta e penna che mi fa venire in mente in tempo lontanissimo in cui sperimentai in prima elementare la penna DIC questa proprio la mia mena era come questa sporcavano molto di più ma mi ricordo nel lontanissimo momenti che c'era la maestra che era scandalizzata perché non potevamo utilizzare il pennino con con l'inchiostro perché fino all'anno prima veramente andiamo indietro fino all'anno prima veniva utilizzato in prima elementare questo è il problema di una sorta di dicotomia fra la cultura umanistica e la cultura digitale cioè è un dato di fatto non è uno scandalo ma occorre individuare gli elementi razionali che dimostrano l'inconsistenza di questa dicotomia o che questa dicotomia è errata che conduce a false conclusioni errate conclusioni su questo il professor Guzzetti si è impegnato per decenni e quindi rimando alle sue per fortuna sono state riprese alcune videoconferenze nelle quali insomma ha spiegato aveva spiegato quello che era il ragionamento che che sviluppava cultura digitale e cultura umanistica il punto è comprendere intanto io faccio degli appunti niente di più cultura umanistica umanesimo la questione che si pone è porre al centro l'essere umano la cultura umanistica le discipline umanistiche l'umanesimo pongono al centro la persona umana ma la persona umana e la sua necessità il suo desiderio necessità per lo sviluppo e desiderio naturale di conoscenza c'è un termine che unisce il termine ragionevolezza ragione e parola c'è la parola il termine logos ecco il termine logos quindi il tentativo la connessione della parola e della ragionevolezza quindi la parola utilizzata con ragionevolezza come fondativa delle relazioni umane il termine logos è a mio parere l'orizzonte semantico all'interno del quale si collocano sia la cultura umanistica sia la cultura digitale il logos è il punto unificante la parola e la ragionevolezza la ragionevolezza utilizzata con la parola da questo punto di vista mi sembra che il nome della vostra associazione vada esattamente in questi termini la connessione informatica umanistica e cultura digitale mi sembra che esprimano esattamente e pura digitale il superamento di questa dicotomia che è una dicotomia non non incomprensibile perché non è semplice non è semplice superare questa dicotomia però è una dicotomia errata il mio vecchio maestro di filosofia diceva sempre sai Stefano quando si sale in vetta e la vetta potremmo dire è una prima tappa per tappe nella vetta della conoscenza o in una tappa della conoscenza perché la vetta della conoscenza non c'è e ci si può andare era appassionato di montagna e anch'io ero appassionato di montagna ci si può andare per diverse strade ferrate o per diverse vie e si scopre che non c'è la dicotomia fra l'una via e l'altra via quando arrivati in vetta si arrivano nello stesso posto solo che ci si è arrivati da un canto piuttosto che da un altro da un percorso piuttosto che da un altro il digitale per sua natura fate che da ingegnere il digitale lo 01 vecchio analogico come dire aveva le impostazioni di una curva invece adesso con una composizione di numeri 01 posso comporre qualsiasi informazione il digitale oggettivamente è nato nell'utilizzo pratico non più di 50 anni fa inizialmente effettivamente lo abbiamo concepito come uno strumento facilitatore di operazioni ordinarie non uso più la macchina da scrivere uso il computer se vi ricordate chi sempre ha avuto modo di utilizzare questi strumenti fra il computer e la macchina da scrivere ci fu per un brevissimo periodo delle iniziali macchine da scrivere e elettroniche informatiche in cui uno digitava e loro buttavano sparavano a raffica le parole scritte le lettere scritte e la correzione era più semplice ma era né più né meno più un ripensamento della macchina da scrivere quello che è accaduto in questi 50 anni è il contesto eversivo che si è venuto a creare quando ancora si sente parlare si sente dire ma noi viviamo nel virtuale noi sappiamo che non è più così e che viviamo in un tempo mixato fra virtuale e reale nel quale il virtuale e il reale hanno incroci costanti questo è pericoloso e qui viene da sorridere perché sì è pericoloso se ricordate se qualcuno va a vedere le prime stampe delle automobili nelle prime automobili per evitare gli investimenti dei pedoni le automobili erano precedute da un maggiordomo che faceva in modo che le persone si spostassero quindi queste immagini sono bellissime perché diceva beh l'automobile come serviva semplicemente per dire non cammino ma vado al passo esattamente di uno che cammina perché quello che stava davanti camminava era pericolosa l'automobile era ed è pericolosa in dubbio l'energia elettrica è pericolosa era ed è pericolosa in dubbio era anche pericoloso il fuoco per scaldarsi o per per vedere lume nella notte quindi il disconoscere un'innovazione in relazione alla pericolosità che questa comporta è irragionevole non razionale laddove d'altro canto l'innovazione consente una molteplicità di sviluppi impensabili fino a poco tempo fa quindi il digitale odierno che è sostanzialmente mediante le reti neurali e l'intelligenza artificiale è innovazione di cui siamo chiamati a sviluppare la conoscenza in relazione alle classi di età ovviamente in proporzione misurata e queste due parole aprono un mondo qual è la proporzione misurata e come se io dovessi dire all'insegnante come si deve insegnare tutte le facoltà di scienza della formazione in realtà non fanno altro che fornire strumenti le tue critiche esperienze e poi però il professionista è chiamato a giocarla la propria competenza quindi in proporzione misurata il digitale nel senso del digital humanities della cultura digitale deve entrare a far spazio del fare scuola noi cerchiamo di farlo con uno strumento che ci siamo dati come ufficio scolastico regionale che è poi stato riconosciuto anche a livello nazionale infatti i nostri riferimenti vengono i nostri docenti esperti vengono utilizzati anche proprio dall'amministrazione centrale come leader come leader come maestri con il servizio Marconi il servizio Marconi lo istituì nel 2008 con l'intento di realizzare quello che poi ho ritrovato essere parlavamo stamattina con alcuni dei componenti del servizio Marconi un'intuizione che sta disvelando nel tempo le sue possibilità una risoluzione della Camera invitava il Parlamento a sviluppare la digitalizzazione la formazione all'utilizzo degli strumenti digitali e la ricerca per l'utilizzo intelligente degli strumenti digitali il nostro servizio Marconi non è altro che questo non a caso non è composto da informatici ma è composto da una quindicina di docenti quasi tutti part time cioè che fanno in parte scuola e in parte servizio Marconi tutti i disciplinaristi di discipline diverse sono docenti di economia docenti di sostegno docenti della primaria docenti di lettere di lingue e anche un docente di cucina docenti che hanno una competenza disciplinare propria che tentano di utilizzare le progressive innovazioni digitali nel fare scuola e quindi nell'accompagnare gli studenti nel percorso della conoscenza io direi che sostanzialmente quello che volevo dirvi l'ho detto sostanzialmente il digitale ci consente di superare l'idea che le materie umanistiche non possano essere formalizzate e vi faccio vedere da questo punto di vista un esempio questo è ok qui esatto questo non è per autocitarsi ma è il messaggio che ho mandato a tutte le scuole dell'Emilia Romagna in occasione dell'inizio dell'anno scolastico abbiamo l'idea che le materie umanistiche non siano in sé formative formali formalizzabili in teme digitali io ho chiesto io ho chiesto chat GPT che non è altro che digitale implementato con rete neurali di prendere di prendere questo testo e di tradurlo per bambini di un'età attorno ai 10 anni voi sapete che chat GPT quello non oneroso quindi quello proprio il chat GPT quello fra virgolette adozinale free quindi adozinale e questo è quello che ha prodotto a 6 anni questo è quello che ha prodotto in alcuni istanti e mi ha colpito perché io non ho detto nulla solo bambino di 6 anni ha tolto c'erano nel messaggio alcuni esempi legati ad naufraghi affogati che avevano con sé il titolo di studio cucito nella giacca me li ha cassati perché li ha ritenuti la rete uno strumento digitale la rete neurale li ha ritenuti evidentemente troppo forti per bambini di 6 anni e mi ha tradotto il testo in questa maniera che faccio fatica a dire che non sia uno strumento che non realizzi uno strumento di fatto di produzione culturale con modalità innovativa dal quale si può partire per sviluppare e altrettanto faccio fatica a pensare che non debba essere portato a conoscenza o che non sia importante che divenga noto per chi fa scuola come strumento a comportare dei rischi certo che comporta dei rischi certamente la penna consente l'utilizzo della penna una serie di elementi di conoscenza scientificamente provati acquisibili solo dal movimento della mano o del corpo quindi la buona carigrafia è utile però non posso pensare che questo sia dicotomico questo digitale sia dicotomico con la cultura umanistica questo è uno strumento che può produrre strumenti culturali beni culturali questo è solo un esempio ma per far capire quello che già oggi è possibile fare facendo scuola e di quanto sia necessaria tra le tre dimensioni digitalizzazione importantissima formazione importantissima la terza dimensione che sottostimiamo facilmente che è quella della ricerca la ricerca significa pensare quotidianamente come utilizzare al meglio questi strumenti perché siano in maniera intelligente ed equilibrata utilizzata nei percorsi cognitivi dei nostri studenti ringrazio ringrazio il primo relatore che ci ha ricordato questo è molto importante che l'innovazione va governata e non fermata ovviamente questo è un aspetto molto interessante e chiamo subito perché siamo un pochino in ritardo rispetto al programma chiamo subito la seconda relatrice la dottoressa Elisabetta Mughini che è dirigente di ricerca grazie mille per essere per aver accettato l'invito innanzitutto ed è dirigente di ricerca presso Indire l'istituto nazionale di documentazione innovazione ricerca educativa del ministero dell'istruzione del merito Indire nasce nel 1925 nasce a Firenze se non sbaglio chiedo di correggermi se compio qualche errore ed allora accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola che sono una fortissima ricaduta sociale io sono particolarmente sensibile perché ho un ragazzino ormai non più bambino ma un ragazzino che ha appena iniziato la prima media e quindi lascio la parola alla dottoressa Mughini con molto piacere per la sua relazione pregandola di rimanere nei 10 minuti aiuto ecco sì sì rimango nei tempi e vi chiedo scusa faccio come il collega io ho bisogno di vedervi ho bisogno di vedervi e di ringraziarvi ringraziare non soltanto agli organizzatori la professoressa Tommasi tu che diciamo hai introdotto ma proprio credo l'aver scelto di fare questo momento di riflessione ogni tanto veramente abbiamo bisogno di fermarci a riflettere su che cosa è accaduto e che cosa sta per accadere mentre lo stiamo vivendo e poi il ringraziamento è che in un brevissimo tempo come quello da stamani mattina ad ora mi avete fatto ripercorrere 35 anni della mia vita quindi è quasi come se fossi qui a chiedervi una cosa a voglia anch'io quella laurea e quel dottorato perché forse me lo sono guadagnato sul campo 35 anni fa quando ancora tutto questo non era formalizzato perché bisogna dare una formalizzazione alle cose quindi breve brevissimo inciso personale autobiografico neolaureata io entro in un centro di ricerca dell'università di Firenze di che cosa si occupa delle applicazioni informatiche al dipartimento di italianistica quindi elaboriamo gli strumenti dell'epoca che erano veramente molto lontani da quelli che adesso abbiamo un primo progetto che si chiama l'atlante multimediale della letteratura italiana l'atlante multimediale della letteratura italiana quindi già scopre l'arcano si occupa di multimedialità 35-40 anni fa si parlava di ipertesti multimedialità e di informatica applicata all'ambito direi umanistico poi subito dopo faccio l'editore quindi entro nella carta stampata quella che qui ci circonda e che è la memoria visibile però dietro tutto questo c'è una memoria invisibile che è la cultura che è il clima nel quale noi viviamo e respiriamo e poi quella memoria digitale che ci permette di non solo immagazzinare grandi dati ma poi di avere la capacità e questa è umana di andare ad interpretarli e legarli fra di loro dopodiché arrivo all'Indire l'Indire hai detto benissimo è un antico istituto del nostro sistema 1925 nasce come centro didattico nazionale e negli anni 80 dello scorso secolo crea la prima biblioteca di documentazione pedagogica informatizzata bene cioè un visionario che poi è stato il presidente dell'Indire fino a pochissimi anni fa ma anche capo dipartimento quindi collega del professor Versari Giovanni Biondi si inventa che l'informatica aveva molto a che vedere con la pedagogia pensate voi c'è qualcuno che si è sentito il terreno che gli scivolava sotto i piedi la pedagogia è il luogo a parte che non era neanche tanto ancora diciamo classificabile avevamo avuto Montessori avevamo avuto i più grandi pedagogisti che si stavano occupando appunto di quello sto per dirvi che è la scuola e del modello di scuola però porta l'informatica digitalizza la biblioteca di documentazione lavorando con le prime clearing house che stavano in America dove sta quei signori che ci mostrava prima Versari e che sembra come dire abbiano generato il male nel mondo perché ci hanno consegnato delle nuove tecnologie ogni epoca ha le sue tecnologie aveva le tecnologie Michelangelo Buonarroti abbiamo le nostre tecnologie sta a noi decidere come le usiamo e come le integriamo credo veramente che siamo nell'epoca e ringrazio di nuovo uso e abuso di una parola che è stata detta in introduzione nell'era della cosiddetta connessione e connubio questa è la parola che ho preso in prestito cioè ciò che ci viene chiesto è come è stato sempre chiesto all'uomo diciamo immaginare ciò che ancora non è stato connesso fra di sé e come questi connubi generano un nuovo contesto un nuovo scenario nel quale poi arriva appunto la laurea che vi chiedo dopo tanti anni c'è la formalizzazione di una laurea e di un dottorato in digital humanities e io ho ripercorso tutto quello che vedevo nelle slide e dicevo mi sono occupata di knowledge management mi sono occupata di editoria digitale ai primordi mi sono occupata del problema della lingua e dei linguaggi e della comunicazione e quindi di conseguenza del mondo che ci sta dietro poi l'ambito dal quale provengo SPS 08 per i colleghi ma che cos'è è quello delle scienze sociali è quello diciamo delle relazioni e poi della comunicazione arriviamo al dunque in dire nel 2014 quindi fa tutto questo costruisce ah questo è per Francesca costruisce gold non bold ma gold era il primo global online sistema di documentazione per la scuola quindi incomincia a diciamo farsi carico del come indicizzare che cosa quello che noi siamo sempre stato siamo state la memoria della scuola ma perché questa memoria venga consegnata a chi la sta vivendo e al futuro e quindi alla scrittura del futuro del futuro anche della scuola quindi da noi la biblioteca che è anche un patrimonio storico importantissimo fatto di fondi librari non abbiamo una diciamo aula magna di questo tipo ma abbiamo una biblioteca costruita da Michele da scusatemi dall'architetto Michelucci male Michelucci disegna e nel 2025 facciamo 200 anni l'istituto quindi come un ambiente a misura perché possa accogliere gli strumenti che nell'epoca erano cartacei anche noi abbiamo digitalizzato i fondi e quindi da questa biblioteca di carta siamo entrati nel mondo digitale gold è la documentazione di quelle che sono le pratiche che appunto da circa cent'anni supportiamo perché vadano verso l'innovazione quindi le tre tappe della mia vita erano appunto il mondo della multimedialità il mondo della stampa e arriviamo al mondo dell'innovazione della quale dal 2014 mi occupo gestendo una rete che credo sia stato l'aggancio la rete delle avanguardie educative 1500 scuole allora noi ci occupiamo di scuola dell'obbligo quindi recentemente dallo 06 però fondamentalmente primo ciclo e secondo ciclo è già stato chiesto ci sono dei docenti e quindi per loro diciamo sono un linguaggio consueto quindi 1500 scuole che decidono di far che cosa di aderire ad un manifesto che è un manifesto culturale di innovazione della scuola ma allo stesso tempo è anche un framework teorico e che colloca cos'è innovazione nella scuola quale possono essere le leve per fare innovazione e quindi nell'innovazione ricomprendere il digitale come una delle componenti e una delle leve quindi tutto quello che ha a che vedere sia con gli strumenti delle nuove tecnologie sia con la creazione di un approccio digitale che è quello che poi ci viene chiesto anche come cittadini e poi come lavoro e nel nel fare questo noi scegliamo di lavorare con la scuola per la scuola questo è il fiducio da cent'anni a questa parte ma per fare appunto con i docenti un lavoro che possa metterli in grado nel momento in cui fanno l'insegnamento ahimè ho una cattiva notizia digital manifest nella scuola non esiste come dice Rina a se stanno forse avete a voi il problema dell'intensità non esiste e io mi domando anche se debba esistere in questi termini perché invece la buona notizia è questa dopo dieci anni di lavoro con queste scuole quindi concentrandomi sulle scuole che sono quelle dove i saperi disciplinari sono stati messi in crisi in crisi quindi la scuola superiore vengono messe in crisi perché la società intorno è sempre più complessa e io continuo a lavorare diciamo prendo anche questo in prestito dal nostro presidente a canne d'organe cioè i saperi scendono in profondità e con grande difficoltà anche per i docenti è necessario fare team working e team building in maniera orizzontale difficilmente il professore insegna lettere si pone il problema di come fare quel tipo di didattica unitamente al professore di matematica che è la persona più lontana in termini di formazione in termini proprio di forma mentis e in termini di quello che gli viene richiesto e crede di aver capito che è quello che gli viene richiesto diciamo di scendere in un determinato tipo di programma cioè i saperi sono insegnati secondo non le indicazioni nazionali ma i programmi io promessi sposi professoressa io l'adoro in quello che lei ha detto ha fatto fare le note no? ha fatto marcare ma nessuno racconta i promessi sposi nella scuola dell'obbligo come uno diciamo uno strumento attraverso il quale tu vai oltre il sapere che è tipico della disciplina che te lo sta insegnando che è quello che ti collega verso il mondo della informatica io direi di più verso il mondo del capire quali sono le ricorrenze dentro ad un testo capire che quel linguaggio è stato poi riutilizzato da altri autori e che ha costruito un modo di guardare la vita in quel momento storico e un modo di guardare la vita nel momento attuale quindi quando si dice l'attualizzazione dei promessi sposi non sta solo nel modo in cui io la vado ad insegnare è perché ho preso in prestito qualche cosa dalla parte di un'altra disciplina o del mondo digitale e magari gliel'ho fatto leggere in un ambiente digitale è perché gli ho permesso di aprire lo scenario che qui ho quasi concluso stai tranquilla degli studenti che nell'esperienza che fanno durante la scuola cosiddetta dell'obbligo devono essere messi in una situazione di apprendimento che non va soltanto in maniera verticale ma va in maniera orizzontale l'orizzontalità significa orizzontalità dentro i saperi perché altrimenti quelle connessioni a quale io vi facevo riferimento non avvengono non riescono i nostri studenti a fare il salto che in quello stesso periodo storico io ho avuto un letterato un grande scienziato una grande produzione artistica che hanno tutte una medesima origine e radice e qui il mondo digitale aiuta tanto perché diventa una piattaforma per i docenti sulla quale lavorare insieme e una modalità abbreviata diciamocelo cioè l'informatica in certi periodi è stata anche un modo di abbreviare il raggiungimento di alcune informazioni di alcuni dati e come ci diceva chat GPT probabilmente come dire adesso ci potrebbe aiutare a scrivere più velocemente alcuni test e già lo sta facendo anche nel nostro mondo diciamo di carattere accademico però per arrivare al dunque e concludere direi proprio che quello che noi abbiamo fatto attraverso il lavoro di avanguardia educativa è fare in modo che i docenti pensassero in modo da sviluppare le cosiddette competenze trasversali le soft skill dei ragazzi a partire da non il proprio ambito disciplinare ma da una visione multidisciplinare quindi quel digital mi connette non soltanto al mondo dell'humanities ma al mondo delle STEM ho dei buoni risultati in alcune scuole dove c'è un indirizzo che in qualche modo diciamo favorisce tutto questo perché se in un tecnico non professionale della regione Campania è precisamente a Napoli e precisamente nei soborghi di Napoli è riuscito ad essere riconosciuto come la scuola più innovativa al mondo in termini di valori la più inclusiva bene perché il diritto ad avere una scuola di qualità è per tutti in termini di competenze perché è un tecnico un professionale che si occupa di indirizzo comunicazione di lingua e di tutta la parte che erano l'ex ragioneria per diciamo i più anziani e quei ragazzi sono produttori di una nuova memoria che ci stanno consegnando perché sanno creare siti web che servono per i cittadini perché si sono messi a lavorare in modo tale che il loro sia un servizio apprendimento ed un lavoro per la comunità la comunità di riferimento quindi fanno un PCTO già utile utilizzando la multimedialità lavorano con registi lavorano con le radio lavorano con il mondo dell'arte dello spettacolo attori eccetera su tell che riguardano il loro studio e la nostra società la cosa più bella che hanno fatto è stato sulla Shoah che da quattro anni a questa parte gli permette una valorizzazione delle discipline multiple è un sito lo potete andare a vedere e l'istituto è quello di Pomegliano d'Arco vuol dire che ce la possiamo fare ce la possiamo fare però con dei docenti che hanno rimesso in discussione il proprio ruolo non di trasmettitori del sapere ma di facilitatori e accompagnatori di nuovi saperi e di nuovi contesti educativi dove le discipline si incontrano e si incontrano anche diciamo le competenze e le professionalità multiple come diceva prima il collega grazie grazie veramente per questa relazione che è piena di spunti ne colgo solo uno ne colgo solo uno che il digitale crea valore e soprattutto quando si fa riferimento a modelli digitali a una paradigma digitale più che a degli semplici strumenti gli strumenti sono importanti ma i modelli come ci è stato detto sono ancora più importanti e replicabili sperabilmente almeno e adesso sono lieta veramente di invitare qui a questo tavolo la dottoressa Laura Moro è già dirigente dell'istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale digital library ministero della cultura la dottoressa Moro che è un architetto ha svolto un lavoro enorme e di altissima qualità di cui sono stata testimone peraltro in prima persona come presidente di IUCD e quindi partecipante anche a vari tavoli di lavoro per dotare l'Italia di un piano nazionale di digitalizzazione che nel nostro paese non aveva e che proprio grazie al team coordinato dalla dottoressa Moro è stato pubblicato nella versione 1.0 a giugno del 2022 potrei dire tante cose sul piano ma ne scelgo solo una il piano non è fatto solo di linee guida operative sui dettagli operativi si può sempre discutere ovviamente il vero valore del piano è che rappresenta una visione innovativa del patrimonio culturale che permette al nostro paese di colmare il divario rispetto a molti altri paesi europei e che proietta il nostro paese verso il futuro questo era un sentire condiviso dalle varie associazioni che hanno partecipato ai tavoli di lavoro e quindi con grande piacere lascio la parola alla dottoressa Moro grazie grazie dell'invito grazie di questa bella presentazione e allora sì io qui in questo breve intervento non farò dei ragionamenti disciplinari perché ovviamente non è il mio ruolo e quindi non entro in questioni accademiche però vi porto una testimonianza che è quella appunto di questo lungo lavoro che ha preso tre anni che mi ha portato ad incontrare moltissime persone professionisti docenti aspiranti professionisti studenti ricercatori a fare ragionamenti a progettare degli strumenti e dei servizi digitali e avviarne la realizzazione quindi ecco prendete quello che vi sto dicendo come una testimonianza che viene da un ministero che si occupa di patrimonio culturale e che ha avviato la sua transizione digitale come tutte le altre pubbliche amministrazioni e settori di questa società allora in questa esperienza ho potuto vedere che ogni professionista che lavora con il digitale diciamo con l'informatica poi capiamo un attimo la differenza quindi ogni professionista che lavora con il digitale applicato al patrimonio culturale si considera un umanista digitale quindi quando noi abbiamo fatto dei bandi per reclutare umanisti digitali chiunque avesse avuto delle esperienze con il digitale si considera umanista digitale gli umanisti digitali si considerano almeno per esempio quelli di questo ateneo invece dei filologi digitali e poi dopo magari vediamo un po' questa differenza comunque diciamo c'è una grande aspettativa c'è molta voglia di entrare in questa definizione di umanista digitale d'altro canto non può esistere disciplina che e quindi non può esistere professione che non abbia avviato la sua transizione digitale un collega archivista diceva oggi l'archivista o è un archivista digitale o non è un archivista e così questo si può dire di qualsiasi professione allora la transizione digitale non significa applicare l'informatica lo ricordava bene il professor Versari non si tratta solo di efficientare i propri processi significa pensare a dei processi a dei prodotti e a dei servizi che siano fatti pensati per l'ambiente digitale quindi non trasferire quello che già facevamo in analogico in un ambiente digitale ma pensare nuove modalità che consentono di avere delle esperienze che prima non c'erano quindi consentono di creare qualcosa di nuovo allora questo lo devono questo avvio questa transizione digitale la devono saper fare tutti e non è banale perché come ho detto molti non comprendono nemmeno la differenza allora quelli di una certa generazione pensano che l'informatica gli serva solo per fare meglio quello che già sapevano fare i più giovani ignorano che esiste un mondo analogico e che esistono dei processi che continuano ad essere analogici quindi questa cosa che ho detto su cui siamo tutti molto d'accordo non è poi così banale da realizzare quindi ammesso di trovare dei professionisti culturali che sappiano pensare digitale e quindi che sappiano appunto stare nell'ambiente digitale dalla mia esperienza di questi anni mi sembra che manchi ancora un tassello al percorso di trasformazione digitale che è quello di un professionista non so che nome gli vogliamo dare non so se il nome giusto sia umanista digitale forse no lo lascio aperto come punto ecco un professionista che sappia applicare l'analisi computazionale dei dati culturali sia prodotti sia che siano questi dati prodotti della digitalizzazione o che siano nativi digitali o che vengono dalle interazioni con gli utenti ecco un professionista che sappia applicare le l'analisi computazionale per produrre conoscenza e per la creazione di prodotti e servizi digitali che vadano ad esplorare forme di uso e di interazione nuove e che quindi che guardino al futuro allora se noi andiamo a guardare i prodotti e i servizi digitali che oggi offrono gli istituti della cultura cioè il mondo culturale per istituti della cultura intendo i musei le aree monumentali le aree archeologiche gli archivi le biblioteche allora se andiamo a guardare questi prodotti e servizi digitali ci rendiamo conto che nascono da visioni particolari cioè da segmenti di conoscenza molto specifici se guardiamo abbiamo il sito web abbiamo il dataset abbiamo l'edizione digitale abbiamo il modello tridimensionale abbiamo alcuni studi quindi tutti tutti segmenti molto verticali di conoscenza quindi molto profondi come in verticale e molto stretti invece in ambito orizzontale perché sono prodotti che vengono dalle conoscenze individuali di una singola persona o di un ristretto gruppo di persone vengono elaborati manualmente per lo più e quindi non hanno nessun sistema che analizza e valorizza i dati in modo automatizzato e quindi una singola persona ma fossero pure dieci persone in un gruppo di ricerca che elaborano manualmente la loro ampiezza è comunque ristretta e quindi sono appunto prodotti molto individuali di quel museo di quel gruppo di ricerca nella rete invece siamo abituati a pensare invece in modo globale molto più ampio orizzontalmente sia come ampiezza di saperi che come ampiezza di esperienze ce lo ricordava la relazione che mi ha preceduto dietro questi servizi cioè quello che oggi noi vediamo espresso dagli istituti culturali non quello che esce dalle aule universitarie o dai dottorati di ricerca ma quello che concretamente gli istituti culturali offrono sono appunto non hanno dietro analisi computazionale è tutto fatto a mano utilizzando l'informatica ma elaborandola sostanzialmente manualmente le bonifiche dei dati cioè Bruno di Regestra vengono fatte a mano ancora oggi e quindi capite che si fa fatica a immaginare del nuovo se diciamo utilizzo strumenti del secolo scorso ancorché informatizzati e allora sono quindi questi prodotti e questi servizi sono statici abbracciano lo dicevo segmenti di conoscenza molto stretti e quello di cui invece si sente la mancanza è di professionisti che sappiano sviluppare modelli di analisi computazionale ad hoc per il settore culturale perché ci sono tantissimi professionisti che lo fanno ma fuori dallo specifico dei beni culturali mi sono interrogata spesso nel mio lavoro se contrattabilizzare dei data scientist puri e poi non l'ho fatto perché il data scientist puro forse non ci serve ancora perché non abbiamo fatto ancora quel passaggio dove possiamo applicare un data scientist puro ai dati del patrimonio culturale perché ci serve ancora il pezzo in mezzo e allora ci servono questi professionisti per creare dei servizi che offrono nuovi modi di visualizzazione dei dati della cultura che sono tantissimi perché noi abbiamo a mente quando parlo di dati della cultura i cataloghi delle biblioteche dei musei ma i dati della cultura sono enormi pensate a tutti i dati del patrimonio costruito a tutti i dati di interazione con gli utenti a tutti i dati delle ricerche che non vengono mai messi a sistema cioè ogni giorno noi produciamo quantità di dati e il nostro patrimonio culturale genera quantità di dati che nessuno gestisce e tratta abbiamo bisogno di visualizzarli questi dati in forme nuove cioè i cataloghi delle biblioteche così come sono fatti dei musei si possono più vedere ma non perché non hanno una grafica brutta perché non incontrano più il modo di oggi di fruire della conoscenza e poi abbiamo bisogno di nuovi modi di rappresentare la conoscenza una conoscenza che è ibridata quindi giusto ibridare la conoscenza ma se io ho metodi poi modelli di rappresentazione di quella conoscenza che vengono dai saperi disciplinari io ibrido e poi non so restituire quindi qui si apre un mondo importante di formazione anche di professionisti dove per nuovo che cosa vuol dire nuovi modelli nuove forme sta la capacità di estrarre valore in modo il più possibile automatizzato dalla grande quantità di dati che si stanno cumulando come dicevo prima e che non stiamo sfruttando e dalle interazioni degli utenti con questi dati il patrimonio è culturale se genera valore per le persone quindi le persone devono essere incluse in questo processo cosa che non abbiamo mai fatto perché le persone sono dei fruitori quindi sono degli spettatori passivi adesso sono anche dei consumatori culturali ma se vogliamo fare della vera valorizzazione ossia di creare valore i pubblici le persone devono essere coinvolti anche nei processi di creazione di contenuti culturali e questo si può fare solo con il digitale ed è questa la grande la grande apertura che il digitale ci dà nella cultura oggetti chiusi nelle vetrine d'accordo perché il bene materiale lo devo preservare ma il corrispettivo digitale invece può farsi carico di tutte le tracce degli utenti che un bene materiale non può avere quindi i professionisti che diciamo chiamiamo come li chiamiamo un ministro digitale non lo so lo lascio a voi non è compito mio dargli un nome devono saper fare secondo me tre cose e queste tre cose si cominciano a imparare secondo me dalle scuole superiori non bisogna aspettare di arrivare all'università o al dottorato di ricerca debbono saper governare i concetti di dominio del patrimonio culturale quindi cronologia stratigrafia contesto provenienza autorialità questi concetti di base saperli dominare da un punto di vista teorico e questa cosa si può cominciare a fare alle scuole superiori non bisogna aspettare di arrivare all'università perché poi l'università è tardi per certi versi poi seconda cosa devono saper governare le strutture dei dati e i modelli di rappresentazione di tutti i settori disciplinari perché perché i luoghi della cultura sono sempre più dinamici ci sono dei musei che hanno dentro una biblioteca ci sono delle biblioteche che fanno le mostre è sempre tutto sempre più andiamo appunto verso l'ibridazione quindi io non posso avere l'esperto che mi tratta i dati di un settore disciplinare è quello che mi tratta i dati di un altro settore disciplinare bisogna avere dei professionisti che sapere trattare tutti i modelli di dati di tutte le discipline non so se questo è possibile io dico quello che secondo me è quello che le istituzioni culturali avrebbero bisogno e la terza cosa saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie per l'analisi e l'elaborazione e la visualizzazione dei dati indipendentemente dalle singole discipline quindi devono poter saper maneggiare queste tecnologie a livello orizzontale perché appunto nessuno si può permettere l'esperto lo storico dell'arte esperto l'archeologo esperto il filologo esperto certo se devo andare a fare dei prodotti verticali certo che mi serve ma per la vita quotidiana di un luogo della cultura abbiamo bisogno di figure leggermente diverse mi rendo conto che non è poco però se il settore culturale vuole fare quello scarto che lo faccia uscire solo dal consumo il settore culturale è diventato merce di consumo come come un supermercato per cui il cinema la musica si consumano i musei si consumano bisogna vendere più biglietti bisogna solo consumare ecco se e qui sono in un'aula universitaria cioè sono dell'aula magna di univolo posso dire se vogliamo che la cultura non sia solo consumo ecco questo scarto va dal mio punto di vista va fatto altrimenti siamo fuori dalle dinamiche del presente un'ultimissima cosa non credo che sia necessario avere tanta ansia per avere un riconoscimento di questo tipo di professione perché noi stiamo ancora facendo i riconoscimenti delle professioni vecchie che è uno storico dell'arte che è un bibliotecario che è un archivista adesso siamo già oltre perché c'è il curatore il digital curator il media manager eccetera eccetera siamo già oltre cioè già il digital curator in un museo siamo ancora andati oltre quindi non facciamo non credo sia necessario fare delle battaglie per i riconoscimenti professionali e non legare gli insegnamenti ai riconoscimenti professionali siamo in una dimensione siamo in una realtà in grande evoluzione e quindi anche le professioni debbano essere da questo punto di vista dinamiche bisogna prima saper fare le cose e poi farsi riconoscere grazie molte grazie veramente alla dottoressa Moro e anche qui moltissimi spunti ne cito soltanto due il primo è il richiamo alle competenze più che ai profili professionali ma alle competenze questo è molto importante e il secondo è sostanzialmente la convenzione di faro cioè il fatto di poter di considerare il pubblico come parte attiva della descrizione della fruizione del patrimonio culturale e a questo siamo richiamati costantemente anche con il PNRR però è difficile da realizzare oltretutto il digitale potrebbe essere in questo senso anche più inclusivo perché potrebbe accogliere un pubblico più ampio più vasto anche con disabilità eventualmente quindi effettivamente il digitale potrebbe rappresentare un valore aggiunto in questo contesto ringrazio di nuovo molto la dottoressa Moro e adesso è veramente un piacere invitare qui al tavolo il collega e amico Mauro Tulli che è uno stimatissimo grecista è professore ordinario di letteratura greca verso l'Università di Pisa dove ha ricoperto anche moltissimi incarichi istituzionali è stato direttore di dipartimento e i campi di ricerca in particolare del professor Tulli sono la papirologia la tradizione dei testi l'epica parmenide il rapporto tra letteratura e filosofia Platone la retorica la biografia qui per oggi è in una veste più una veste un po' diversa oggi ci ho veramente onorati della sua presenza nella veste di presidente del comitato di area 10 presso il consiglio universitario nazionale e conosco il professor Tulli da alcuni anni in questa veste perché partecipo all'assemblea di area 10 e posso testimoniare veramente di quanto si spenda quotidianamente per l'area per tutta l'area sempre attento alle esigenze di tutte e di tutti e dotato di una non comune capacità di ascolto quindi con grande piacere gli cedo la parola queste che ho ascoltato che naturalmente mi provocano un certo disagio e l'amicizia che mi lega a Marina funzioni è del tutto evidente un'amicizia stratificata negli anni proprio con la militanza in area 10 ringrazio gli organizzatori tutti di questo incontro così importante sia da un punto di vista simbolico in una splendida sede sia da un punto di vista sostanziale per il progresso che senza dubbio consentirà sta consentendo nella riflessione sull'umanistica digitale ringrazio Francesca Romanzi in particolare che so essere artefice massima di questa organizzazione e purtroppo il tempo credo che sia particolarmente ristretto quindi cercherò di dire l'essenziale pronto poi eventualmente intervenire in eventuali dibattiti dunque io sono qui come l'amica Marina funzioni ricordava in veste di membro del CUNA in buona sostanza e in particolare coordino area 10 all'interno del CUNA sono inserito nell'aggiunta quale espressione dei professori ordinari in altri termini seguo molto da vicino forse per sé troppo da vicino alle problematiche del sistema universitario due parole quindi sull'umanistica digitale all'interno del sistema universitario bene oggi questo significa parlare di due processi in corso ma ormai in fase ultima di realizzazione due processi dei quali è stata apertita l'esigenza ormai da tempo ovvero il discorso sarà inevitabilmente un po' tecnico ovvero il riorno del decreto ministeriale del 270 un decreto che risale il 2004 ed è il decreto che stabilisce le coordinate di fondo della didattica nelle strutture universitarie sul decreto ministerial 270 sono intervenute nel tempo numerose modifiche ma un riordino profondo non è stato prodotto ora è stato prodotto e lo avremo ben presto davanti ai nostri occhi la seconda delle due procedure che indicavo il riordino difficile dal punto di vista tecnico della cosiddetta legge dei saperi ovvero dipende l'organizzazione della ricerca e del reclutamento universitario ecco l'umanistica digitale e le digital humanities in questo contesto il dibattito è stato forte forte perché indiscutibilmente nessuno può negarlo io credo che ho sentito nel corso degli interventi che hanno preceduto il mio ho sentito una fin troppo marcata tendenza che da glicista definirei apologetica ovvero giustificare l'esistenza dell'umanistica digitale io credo che questo tempo sia ormai superato nessuno può mettere in discussione l'esistenza oggettiva dell'umanistica digitale si tratta naturalmente di definirla soprattutto di definirla nella sua autonomia ma l'impatto dell'umanistica digitale nella ricerca e nella didattica è cosa assolutamente certa e concreta due minuti due da grecista io sono immesso in istica digitale in vario modo superficiale o davanti allo sguardo se gli occhi un computer senza quadri non riuscirei a produrre l'orna fino ad aspetti tecnici molto più raffinati molto più importanti ricordava l'amica Marina Bulzone il mio rapporto con la papirologia in particolare seguo molto da vicino il lavoro del centro di Napoli sui papiri di Ercolano quel che il centro grazie al mondo digitale è riuscito a raggiungere e negli ultimi dieci anni non dico venti proprio dieci anni è qualcosa di incredibile ormai aperta la strada alla lettura dei rotoli carbonizzati di Ercolano senza sforgimento e tutto questo naturalmente comporta le conseguenze di enorme rilievo nel nostro rapporto con i testi del mondo antico parlavo di un valore simbolico di questo incontro siamo in una sala splendida e credo che il senso da cogliere sia l'assoluta continuità tra passato e presente tra questi libri dell'umanistica digitale continuità nella quale credo profondamente ma torniamo al nostro aspetto tecnico a causa della presenza netta dell'umanistica digitale e del mondo digitale nei nostri studi e nella nostra didattica la risposta che noi abbiamo avuto dai colleghi e in particolare dalle associazioni e dalle consulte che abbiamo ascoltato per il riordino del DM 270 vi ripeto didattica e per il riordino della tassonomia dei saperi sulla base della legge Germini ecco è una risposta che impressiona nella quantità per il mondo digitale pensate che nel pacchetto complessivo del riordino del DM 270 che abbiamo ovvero didattica che abbiamo presentato al ministro Berlini il termine digitale riporre tra 120 e 130 volte nel pacchetto complessivo per il riordino delle ricerche del conseguente reclutamento quindi il riordino della legge Germini che abbiamo presentato al ministro Berlini il termine digitale riporre circa 160 volte segno chiarissimo che il mondo digitale emerge in maniera poderosa in tutti i campi del sapere emerge in tutte le classi di laurea emerge in tutte le cosiddette declaratori dei settori scientifici filosofi il professor di origine apertura sottolineava tuttavia una forte rivaricazione tra teorie e prassi effettivamente emerge e quel che emerge la teoria la prassi la prassi è difficile da affermare e l'amica Marina lo sa benissimo perché il nostro dialogo in merito è stato dei mesi che abbiamo alle spalle molto molto fitto è difficile da affermare direi per motivi essenzialmente politici molto più che culturali oggi noi siamo in una fase in cui la guida del ministero oggi ieri era una situazione molto simile mi riferisco all'arco dei ministri che ha promosso e guidato questa fase di riordino e della didattica e della ricerca all'arco dei ministri che va dal ministro Manfredi attraverso il ministro Messa fino al ministro Per il bene e c'è una fortissima prudenza non nei confronti dell'umanistica digitale non nei confronti del mondo digitale sarebbe assurdo immaginare ma c'è una fortissima prudenza nell'accettare il nuovo e il mondo digitale rappresenta potentemente fatto altre caratteristiche forti che stanno venendo fuori nella didattica e nella ricerca rappresenta potentemente il nuovo c'è timore della frammentazione c'è timore della moltiplicazione c'è timore della settore realizzazione tutto questo ha portato ad un comma di una legge che in questo momento è per noi molto importante la legge il 79 ad una che è stata pubblicata il 30 giugno del 2022 ma un anno e mezzo di vita bene nella legge 79 c'è un'indicazione tassativa la legge 79 vuole portare ad un nuovo ad un assetto nuovo dei saperi con la creazione dei gruppi scientifico disciplinari che superano i vecchi settori concorsuali per fortuna la legge 79 ma è stata una grande battaglia conserva i settori scientifico disciplinari quindi la nuova tassonomia sarà fatta su gruppi scientifico disciplinari e settori scientifico disciplinari bene i gruppi scientifico disciplinari che saranno l'asse portante nell'organizzazione della ricerca e della reclutazione di gruppi scientifico disciplinari vengono indicati dalla legge 79 in numero non superiore al numero dei vecchi settori concorsuali questa frase che occupa un rigo e mezzo della gazzetta ufficiale è una frase di rimedio dalla quale dipende anche oggettivamente il futuro del mondo digitale perché è ovvio che se non è stato possibile a causa di quella frase ampliare il numero dei gruppi scientifico indisciplinari non è stato possibile trovare uno spazio nuovo per l'umanistica digitale avevamo dei vincoli assolutamente insuperabili vincoli che nascevano e nascono da quella prudenza il desiderio ovvero il desiderio di avere un corpo docente a disposizione per ambiti ampi un corpo docente non settorializzato tutto questo ha portato l'umanistica digitale in particolare a trovare spazio in altre forme e sensibilità si sono date in area 10 in particolare sensibilità da parte degli amici possiamo dire di comparatistica che nella loro declaratoria hanno ripetutamente inserito il termine digitale ma nella declaratoria lo troviamo il termine digitale in tantissimi gruppi e tantissimi settori vi ripeto anche anche c'è però una differenza importante una differenza che sottolineo anche in funzione del futuro e qui rivolgo un appello a tutti coloro Marina che seguono più da vicino con me queste dinamiche legate la comparatistica il gruppo di comparatistica accettò a differenza di altri di esporre la sequenza umanistica digitale come parola chiave era un passo molto importante perché con il sistema organizzato per parola chiave in fondo il CUN cercava di riproporre e di espandere il sistema dei settori scientifico disciplinari proporre una riproporre all'interno della comparatistica la sequenza umanistica digitale significava dare un segno forte di autonomia in termini proprio disciplinari ad un mondo sostanzialmente nuovo purtroppo nel prendere le redini del ministero l'attuale ministro il ministro Berlini ha rifiutato l'organizzazione per parola chiave sempre per la prudenza che prima descrive ha capito dopo averle osservate come proposte da alcune che il numero delle parole chiave andava ben oltre il numero dei gruppi scientifico disciplinari e persino oltre il numero dei settori scientifico disciplinari da qui un blocco tuttavia ed è notizia che ci permette qualche speranza nelle ultime interlocuzioni assolutamente interpersonali spesso di scambiare parole con la ministra con il capo di gabinetto la dottoressa Paglissima la dottoressa Panucci bene nell'interlocuzione sta riemergendo una generale sensibilità per le parole chiave tutto questo permetterebbe di far venire fuori il nuovo all'interno del sistema dei saperi e nel nuovo senza dubbio l'umanistica digitale troverebbe il suo spazio se come oggi sempre le parole chiare avranno forza forza esplicita ovvero ufficiale saranno formalizzate all'interno di M certamente l'umanistica digitale sarà tra queste e uno spazio si aprirà ai più giovani questo discorso sembrerà veramente o troppo tecnico o ozioso ma avere in futuro una parola chiave umanistica digitale significa reclutare sull'umanistica digitale significa avere campi sempre più ampi e identità sempre più netta nella cosiddetta tassonomia dei saperi per l'umanistica digitale le altre procedure quelle relative alla didattica lì il discorso è più semplice vi ripeto il riordino è stato fatto ed è presso il legislativo con concluso il suo lavoro ci sono le nuove classi di laurea che poi sono le vecchie fortemente aggiornate lì vi dicevo il termine digitale figura più di 120 volte nelle descrizioni che diamo delle classi lì il discorso è diverso perché l'abbiamo ricordato fin dall'inizio del nostro incontro l'umanistica digitale ha una sua casa ha una sua potremmo dire per metafora parola chiave forte perché la casa dell'umanistica digitale è la casa della LM43 nella quale si parlava con il presidente coordinatore di Bologna ed è una casa che va avanti benissimo io potrei fare su FISA dove lavoro un discorso assolutamente parallelo a quello che si faceva su Bologna ovvero il numero di matricole cresce il tasso di occupazione è persino impressionante perché i ragazzi vengono convinti prima di conseguire il titolo di laurea magistrale fu una strada presa da Pisa presa da Bologna con grande depressività cioè subito dopo il DM 270 ed è una strada che ora proseguirà siamo convinti con grande grande successo il nostro riordino forse avrà dato un contributo perché abbiamo pulito la classe di tante interferenze c'era tutta una zona che con Marina e con altri presidenti di associazioni e consulte abbiamo pensato non immediatamente fondativa abbiamo isolato il celeberrimo Inf Inf 05 con Inf 01 tra le discipline fondamentali per la LM 43 abbiamo introdotto una descrizione estremamente più spero poter dire chiara e anche più complessa una descrizione intorno alla quale poi i singoli corsi nelle singole sedi verranno costruiti una descrizione intorno alla quale sarà fatto il reclutamento dei giovani quindi le immatricolazioni credo che il prodotto sia effettivamente convincente accade a Pisa esattamente quello che accade a Bologna a gran parte dei ragazzi viene da una formazione umanistica noi alla base della LM 43 abbiamo una L10 il percorso è assolutamente chiaro la LM 43 il maggio di Bologna è certamente di Pisa è una LM una Magistà è difficile soprattutto al primo anno non perché ragazzi formati sulla L10 devono sterzare le loro competenze verso componenti tecniche di fondamentale importanza ma il successo è evidentissimo anche nel paragone con altri corsi che a Pisa e immagino a Pologna ci sembrano in affanno quindi lì il riordino è avvenuto credo in piena continuità e con buon effetto per quanto riguarda invece la tassonomia dei saperi l'aspetto più delicato è certamente più importante perché avere una parola chiave significa avere di fatto un settore e avere un settore apre spazi di ogni tipo il discorso è molto più difficile molto più delicato ma le speranze io credo che possano essere indicate e sono legate proprio all'idea di accettare le parole chiare che aprirebbero fortemente al nuovo a quella intersezione che ormai sta creando in ogni capo del sapere e che se noi guardiamo la tassonomia europea quella della cosiddetta IRC è largamente in alto in altri paesi della nostra tassonomia siamo troppo conservatori ne sono perfettamente consapevole abbiamo una direzione politica del ministero che tende a chiudere per motivi di prudenza perché ha timore dell'eccessiva frammentazione e della creazione di piccoli gruppi non che piccoli gruppi ora non ci siano in area 10 noi siamo l'area più ricca di settori scientifico disciplinari all'interno delle 14 del CUN ne abbiamo ben 76 da questo punto di vista abbiamo i riflettori puntati addosso pensate che cosa vuol dire per noi perché il tempo non permette di andare oltre affermare in aula con il diritto di autonomia dell'umanistica digitale quando INF01 cioè l'informatica è un unico settore che ha 1046 docenti in organico noi abbiamo settori con in maniera sommessa è stata una nostra conquista ormai tutto è fatto conservarli noi abbiamo settori con 6 docenti in organico questi sono i termini del problema per me dire ho bisogno di autonomia per un settore nuovo significa accendere un dibattito che si spegne in 5 minuti perché ricevo solo parole parole nette di rifiuto se passiamo dai settori insisto le parole chiave margini di speranza molto pronunciate ci sono e credo che la direzione che sta prendendo ora il nostro ministero il mur con nell'interlocuzione del ministro Berlini sia quella giusta all'interno di un profondo riorbio del sistema universitario sappiamo per certo che il ministro Berlini vuol creare concretamente commissione di riforma se ne notano qua e là anche alcuni elementi fondanti una commissione ampia rappresentativa dove ci saranno membri di alcun membri della Cruy membri dell'Hambur dove ci saranno anche delegati delle forze politiche perché poi al termine di questo profondo di ordino ci sarà il Parlamento che in questo profondo di ordino possano trovare spazio le parole chiave non solo il mio auspicio ma è ripeto fondata speranza ed è la via attraverso la quale il nuovo in generale del sistema universitario potrà avanzare fermo presentazione di ambiti che non sono semplici da raccontare è stata una presentazione lucidissima e io credo che il professor Tulli conosca anche ogni singolo comma di ogni singolo articolo di ogni singolo dm a memoria perché lì cita sempre e sempre in maniera corretta grazie anche per la speranza questo diciamo questa apertura che speriamo si possa concretizzare veramente grazie veramente di cuore